La fiducia delle imprese a ottobre torna in calo, interrompendo una serie positiva che durava da tre mesi. L'indice scende a 79,3 da 82,8. Lo rileva l'Istat. Sul ribasso pesano i peggioramenti subiti nel commercio a dettaglio e nei servizi di mercato, mentre il comparto manifatturiero raggiunge il livello più alto dopo agosto 2011. Colpa dell'amento dell'aliquota IVA che rischia di deprimere ulteriormente i consumi. A preoccupare le imprese è anche la rivalutazione dell'euro sul dollaro, con il tasso di cambio che è salito al massimo da due anni e rischia di frenare le esportazioni che hanno salvato fino ad ora i bilanci di molte aziende. Una situazione che provoca incertezze sui mercati azionari e nuove tensioni sullo spread, con pericolosi effetti per il costo del denaro e sugli investimenti. Grazie 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 Grazie